Musica Domani a Sondrio, Morbegno e Chiavenne, venerdì a Sondalo, al via la vaccinazione anti-covid per gli over 80 da lunedì attivi più punti vaccinali sul territorio con i medici di base Anche in farmacia molte adesioni di anziani alla campagna vaccinale il presidente dell'ordine dei farmacisti rilancia l'appello via paure e attendismo, vacciniamoci in massa per vincere la pandemia Impianti chiusi, ma troppe le persone in pista il prefetto interviene con un'ordinanza che vieta l'accesso ai tracciati battuti per ciaspolo e sci alpinismo e scrive al ministero, ma alcuni sindaci non ci stanno Stasera e domani su Unica la lezione concerto dell'orchestra Vivaldi nel ricordo dell'olocausto Musica e parole per non dimenticare l'iniziativa promossa dall'ufficio scolastico territoriale Buonasera e ben trovati a tutti i telespettatori di Unica Sondrio Ci siamo tutto pronto in provincia per l'avvio della campagna di vaccinazione contro il Covid Si comincia domani a Sondrio, Morbegno e Chiavenna Poi a Sondalo e in altri centri della provincia 7.739 gli anziani pronti alla somministrazione Vediamo Sono 7.739 gli ultraottantenni della TS della Montagna che hanno dato finora la loro adesione per sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti-Covid Il canale prevalente è stato quello del portale regionale 5.303 adesioni 2.268 tramite le farmacie e 168 con i medici di Medicina Generale Domani si inizia grazie alla collaborazione del personale sanitario di ASST Valtellina Altolario ma anche di numerosi volontari per la sicurezza con la somministrazione alle persone più anziane ATS ribadisce che solo chi ha ricevuto conferma dell'appuntamento con data e ora si deve presentare al centro vaccinale indicato Per i prossimi tre giorni, giovedì, venerdì e sabato centri vaccinali attivi a Sondrio presso il Policampus a Chiavenna e Morbegno presso i rispettivi presidi ospedalieri Da venerdì al via la somministrazione del vaccino anti-Covid anche al Morelli dal 22 al 28 febbraio saranno attivati anche i centri realizzati grazie anche alla collaborazione dei comuni a Bormio nel punto intervento a Reu a Tirano a Palazzo Foppoli a Berbenno al Teatro Quattro Torri a Villa di Tirano nel centro polifunzionale a Nuova Ologno di Dubino alla RSA Madonna del Lavoro Sempre a partire da lunedì prossimo comunica TS della Montagna saranno coinvolti in questa fase della campagna vaccinale riservata agli over 80 anche i medici di medicina generale che hanno aderito all'iniziativa Anche le farmacie stanno registrando in questi giorni un forte afflusso di anziani che chiedono di aderire alla campagna di vaccinazione anti-Covid il presidente dell'ordine dei farmacisti rinnova l'appello via ai timori sì alla vaccinazione di massa per vincere la pandemia Anche le farmacie punto di riferimento per le adesioni al vaccino anti-Covid per gli over 80 in quella del dottor Cesare Mazzocchi di Morbegno presidente dell'ordine provinciale farmacisti già una settantina nei primi due giorni gli anziani che si sono presentati per dare il consenso Siamo senz'altro favorevoli ad una vaccinazione di massa alla quale tutti devono aderire nonostante qualche timore qualche effetto collaterale che può comparire anche con qualche dolore nel punto dell'inoculazione qualche effetto di febbre che può raggiungere anche livelli alti però sono effetti transitori nei quali dobbiamo essere consapevoli che fanno parte di quello che è un obiettivo ben importante che è quello di una vaccinazione L'atteggiamento prevalente è di forte fiducia nel vaccino ingiustificati, scetticismo e attendismo Mi sembra un atteggiamento veramente un po' diciamo debole e da poco nel senso che non è direi neanche giusto che ci mettiamo in questo atteggiamento di attendismo di risultati che vogliamo vedere prima Io sono nettamente contrario a questo atteggiamento anche perché sono un vecchio farmacista come le dicevo prima che quasi quasi quando faccio una qualche preparazione amerei provarla sulla mia pelle e sul mio organismo però insomma dobbiamo orientarci inevitabilmente verso un atteggiamento di massima se non di obbligo ma di massima diffusione la più ampia possibile e per la vaccinazione e colgo l'occasione ora per trasferire il discorso anche sul tema dei tamponi rapidi Così dice Mazzocchi possiamo contrastare la diffusione anche da parte degli asintomatici Il virus infatti continua a circolare siamo lì già la mascherina per il rischio di contagio per le vie aeree ma non basta A volte ci sfuggono invece quei rischi cosiddetti di contagiosità da contatto che sono invece molto presenti nella nostra attività giornaliera La mancata ripartenza della stagione turistica invernale resta sotto i riflettori Domenica aveva colto tutti di sorpresa lo stop alla riapertura degli impianti deciso dal Ministro della Salute In queste ore sono le piste di sci battute a far discutere non sono accessibili spiega il prefetto in attesa di chiarimenti dal Governo e dalla Regione Con l'ordinanza del Ministro della Salute è stata rinviata l'apertura degli impianti Il problema che ci siamo posti è il seguente Chiusi gli impianti sono chiuse anche le piste da sci? E questa è la domanda posta dal prefetto di Sondio Salvatore Pasquariello la richiesta di chiarimenti inviata alla presenza del Consiglio dei Ministri ai Ministeri della Salute dell'Interno a Regione Lombardia Gli impianti di risalita resteranno chiusi fino al 5 marzo Anche le piste, secondo una prima valutazione non dovrebbero essere accessibili fino a quella data ma il confronto è in corso Dopo un confronto che abbiamo avuto in sede di riunione tecnica delle forze di polizia con il sindaco di Livigno che abbiamo chiamato perché ci era stato segnalato un notevole afflusso di sciatori sulle piste di Livigno abbiamo ritenuto di porre un quesito al Governo e alla Regione nel frattempo di adottare una linea che si può ritenere restrittiva ma è quella più coerente con la norma vigente che è un regolamento regionale in applicazione della legge regionale del 2014, la numero 26 dice che le piste da discesa sono aperte al transito degli utenti dall'orario di apertura dei rispettivi impianti serventi sino a 15 minuti successivi alla loro chiusura da qui abbiamo dedotto che il legislatore regionale ha stabilito che se gli impianti sono chiusi anche le piste devono essere chiuse uno degli aspetti più delicati è quello dell'assistenza e della sicurezza nel caso di ingresso sulle piste battute con impianti fermi perché le piste hanno delle caratteristiche hanno delle condizioni di sicurezza che devono permanere durante il loro uso e quindi secondo me è anche conseguente il discorso di tener chiuse le piste laddove siano chiusi gli impianti di risalita aperto un cane di comunicazione con le località turistiche Nello stesso giorno in cui ho posto il quesito al governo e alla regione ho scritto ai sindaci allegando la mia lettera il quesito di cui stiamo parlando e invitando i sindaci a farmi avere le loro osservazioni stamattina ho già ricevuto dal comune di Livigno che ha scritto insieme al comune di Aprica alcune osservazioni e le sto mandando al governo e alla regione per le definitive valutazioni Le piste sono più sicure del fuori pista questa l'attesi sostenuta dai sindaci di Livigno e di Aprica nelle lettere inviate oggi al prefetto di Sondrio Due lettere di due pagine ciascuna sono state scritte dai sindaci di Livigno e Aprica inviate al prefetto di Sondrio per dare il proprio contributo di idee sullo spinoso caso delle piste da sci chiuse in base alla legge a successivo regolamento regionale del 2017 il primo cittadino di Livigno Damiano Bormolini pone l'accento sul tema sicurezza risulta contraddittorio si legge per mettere la pratica dello scialpinismo delle ciaspolate della discesa con la slitta al di fuori delle piste individuate riconosciute dalle comunità montane competenti spiega Bormolini inevitabilmente più pericolose che potrebbero nascondere insidio pericoli come ghiaccio avvallamenti ricoperti da considerevoli masse nevose valanghe Badassè aggiunge il sindaco che per regolamento le piste sono tracciate in zone sicure esenti da pericoli naturali soprattutto se già battute e preparate per l'apertura dello sci alpino da discesa in tutte le sue forme e quindi sarebbe assurdo sanzionare chi si trovi in una situazione meno rischiosa rispetto a chi procede in salita o in discesa a bordo delle piste stesse sulla stessa lunghezza d'onda il sindaco di Aprica Dario Corvi anche ai fini della sicurezza scrive il primo cittadino del comune robico è auspicabile se non solo possibile per chi pratica lo sci alpinismo l'utilizzo degli ambiti abitualmente utilizzati come piste da sci per la discesa dai pendii evidentemente più sicuri di ogni altro ambito per caratteristiche e conformazione in attesa di una risposta governativa ricorda Bormio Marketing il prefetto ha ritenuto di dover interpretare in maniera restrittiva l'ordinanza considerando vietato l'utilizzo delle piste da sci con sci sci d'alpinismo snowboard ciaspo le slitta fino al 5 marzo 2021 si confida all'auspicio di Bormio Marketing che il governo possa cedermente rispondere prendendo una posizione di maggior apertura l'emergenza sanitaria e le misure per contenerla hanno messo in ginocchio gli operatori economici la batosta della chiusura degli impianti ha dato il colpo di grazia in particolare a chi lavora sugli impianti alcuni alberghi al momento non registrano particolari contraccolpi e le prenotazioni non mancano unica nota positiva di questo periodo nero nelle località scistiche della provincia è l'affetto di tanti turisti che nonostante le misure anti-covid e l'ennesima batosta con l'inattesa proroga della chiusura degli impianti confermano la loro presenza negli alberghi del territorio noi subito siamo partiti con le email ai nostri ospiti che avevano già prenotato per il prossimo weekend e stiamo ricevendo conferme cioè gli ospiti vengono volentieri anche senza anche senza lo sci perché comunque si possono fare tante altre cose eccetera siamo comunque dispiaciuti molto per per tutti coloro i quali lavorano sugli impianti perché comunque trovarsi ancora fermi e senza e senza lavoro era una cosa che non ci voleva siamo già tutti sofferenti di questa situazione chi lavora sugli impianti chi ha i ristoranti sulle piste e insomma non ci voleva e dopo sei mesi di chiusura senza nessun tipo di sostegno economico oggi è riaperto l'hotel Tremoggia di chiesa in Valmalenco albergo storico che si appresta a festeggiare cento anni di attività sotto la gestione della stessa famiglia e Lenatti fondato da Cesare nel 1924 quindi dal figlio Luigi poi dal nipote Cesare ed ora da Martina e Andrea Lenatti in questi mesi purtroppo non abbiamo visto nessun ristoro nessun aiuto e quindi non vediamo l'ora di ricominciare a lavorare e di ritornare a una sorta di normalità Confortante l'affetto che vi è stato dimostrato dalla clientela Sì certo abbiamo i nostri clienti affezionati che hanno già spostato la prenotazione che avevano quest'anno sull'anno prossimo per esempio tutti gli ospiti inglesi che vengono ogni anno anche due volte in una stagione ma anche tanti ospiti italiani confortante anche vedere che la richiesta cede tanta anche per questo periodo dopo un periodo così duro per tutti comunque c'è ancora la voglia e la possibilità di venire in vacanza Dopo la Vivaldi a casa tua fortunato ciclo di concerti proposto di recente su unica nuova iniziativa culturale dell'orchestra Antonio Vivaldi del maestro Lorenzo Passerini si tratta di un evento tra musica e letteratura promosso dall'ufficio scolastico territoriale in occasione del giorno della memoria in onda stasera e domani sul nostro canale eccone un'anticipazione dai canti popolari ebraici alle colonne sonore di film a brani di primo levi musica e letteratura per non dimenticare l'olocausto e la lezione concerto promossa dall'ufficio scolastico territoriale di Sondrio nell'ambito delle iniziative della giornata della memoria a proporla dall'auditorium Sant'Antonio di Morbegno l'orchestra Antonio Vivaldi L'orchestra Vivaldi non è solo una realtà concertistica ma è anche una realtà che vuole promuovere la musica vuole parlare ai giovani vuole diffondere vuole creare legami e parlare del bello e parlare in generale di tutto quello che è possibile descrivere con la musica l'evento disponibile sul canale youtube del provveditorato questa settimana viene proposto al pubblico di Unica Sondrio mercoledì alle 21.20 giovedì alle 23.40 domenica alle 13.40 sul palco Elisa Scanziani al violino e Marco Cadario al pianoforte Essendo trascorsa da pochi giorni la ricorrenza della giornata della memoria dichiara il dirigente dell'ufficio scolastico Fabio Molinari abbiamo deciso di prolungarne le celebrazioni attingendo al linguaggio della musica per cui vogliamo condividere con tutte le scuole e chi fosse interessato questo lavoro originale è particolarmente toccante realizzato dall'orchestra Vivaldi alternate alle note le parole di Primo Levi nell'interpretazione di Pietro Ciapponi voi che vivete sicuri nelle vostre tiepide case voi che trovate tornando a sera il cibo caldo e i visi amici considerate se questo è un uomo che lavora nel fango che non conosce pace che lotta per mezzo pane che muore per un sì o per un no se noi oggi in questo servizio possiamo ricordare i mestieri di una volta che non ci sono più è grazie a Dermanno Sagliani valtellinese d'adozione che negli anni 80 ha realizzato alcuni video sulle professioni di un tempo un omaggio ad un'arte che ci appartiene ai tempi della guerra ne ho fuggiti tanti pesoni che anzi mio marito andava i morofini a venderli che i morofini facevano un contrabando e mettevano questi pesoni queste pantofoli i mestieri di una volta rivivono grazie al lavoro lungimirante di Ermanno Sagliani urbanista in pensione nato a Milano ma residente a Sondrio appassionato di video e fotografia che grazie alla sua intraprendenza ha realizzato a Lanzada Caspoggio e Torre di Santa Maria negli anni 80 5 film dedicati alle professioni di un tempo ormai scomparse e ai loro protagonisti gli artigiani ne vido la creazione dei pedù calzature di stracci la realizzazione del gerlo la lavorazione della pietra ma spazio anche allo stagnino e all'arrotino ho girato questi film tutto a mie spese senza nessuna sovvenzione solo per interesse mio e passione per questi mestieri che avevano rappresentato la vita di questi malenchi per anni e secoli c'erano gli stagnini i muletta di Caspoggio i gerlat di Torre Santa Maria e poi altri ancora il la gemma che faceva il pedù la gemma dei pedù esatto e ognuno aveva la propria caratteristica devo dire che il migliore era stato il magnan quello che stagnava le pentole perché parlava spontaneamente mentre lavorava raccontava queste sue storielli anche il dialetto ed era veramente un attore nato opere uniche film che conservano un prezioso patrimonio storico eredità straordinaria per le nuove generazioni penso che sarebbe utile anche farli vedere nelle scuole ai ragazzi perché possano capire com'era faticoso e ingegnoso creare gli strumenti per questi lavori come ad esempio nel film il mago della pietra Giordani non voleva essere ripreso e quindi per me è stato faticoso è regolato da una lungazza la plata con cui l'artigiano mette in moto e arresta il turno lo sport con l'atletica leggera i campionati italiani allievi indoor svolti sia ad Ancona grande prova per Daniele Lanzini astronascente del centro sportivo Olimpia di Piateda che ha migliorato di due decimi il suo primato personale nei 60 ostacoli qualificandosi alla finale dove è giunto a settimo primo tra i nati del 2005 unico atleta lombardo in batteria Daniele ha abbassato a 8 minuti e 23 secondi il suo limite personale stabilito appena una settimana prima a Saronno staccando il terzo tempo di ammissione alla finale chiusa al settimo posto in 8 minuti e 31 secondi un'esperienza bella e preziosa per la mia crescita commenta l'allievo di Alberto Rampa era l'ultima notizia come sempre vi ricordo che potete seguirci anche sui social grazie di cuore per essere stati con noi e a tutti voi buon proseguimento di serata grazie a tutti